Un miracolo dell'ingegneria e a quanto si risparmierà in tempo, in denaro, in inquinamento. Buonasera. Buonasera, serfico, mister Serbino. Prego, prego, prego. Di dove siete? Di Gagnano, Napoli. Siete qua in vacanza? Sì. Per una cucina, serbano. Bene, benvenuti. Tra qualche annetto ci sarà un ponte qua al posto del traghetto. Stiamo parlando proprio di questo, lo aspettiamo. Grazie, grazie. E ci cambiamo noi. Eh? Ci cambiamo io. Eh, ma guarda, qua si moltiplicheranno i posti di lavoro, amico mio. Non lo devo fare. Aspetta. Eh? Mia, ma che sei? Buon lavoro. Ciao, saliamo, vai. Saluti. Buonasera, prego, prego. Certo, ci mancherebbe. Ma sempre dalla parte delle forze dell'ordine, sempre, ragazzi. Vai. Arrivo, eh. Vai. Non è una cosa che fa, così poco. Vieni, 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 certo, volentieri. Infatti ci... Ciao ragazzi. Ecco, avete capito che non è la diretta classica.